Primo punto, ho preso la lavagna apposta. La cosa più urgente, non la cosa più importante. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro. La chiamiamo alternanza scuola-lavoro anche se la parola è una parola un po' abusata. Dico che è un'urgenza perché noi abbiamo avuto in questi anni un crollo totale degli occupati. Abbiamo avuto un aumento della disoccupazione giovanile che è impressionante. Noi siamo un paese in cui i ragazzi che non trovano lavoro sono oltre il 40%. È un dato che è tra i peggiori d'Europa. L'alternanza scuola-lavoro funziona in Germania, funziona in Svizzera, funziona in Austria, funziona anche in quella parte d'Italia come l'Alto Abige che la può fare in virtù di una previsione costituzionale. Nella buona scuola si prevede finalmente l'alternanza scuola-lavoro per tutti. Il tuo obiettivo è ridurre quel 44% di disoccupazione giovanile. È l'urgenza numero uno che abbiamo davanti a noi. Grazie. 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 Grazie.